E' tornato anche oggi. Dopo vent'anni è sempre qui. Come stai, bello? Ecco i tuoi dolcetti preferiti. Parla, 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 sputa il rospo avanti, dai! Fregato! Vuol dire che stai fingendo da vent'anni? Tutto per fare uno scherzo! Chi? Ma! Fichi! Lloyd, guarda le gnocchi a ore due. Mancano tre ore. Non potrei guardarle subito? Una cartolina di Frida Felcher. Harry sono incinta, ti prego chiamami. Ma di chi vorrà parlare? Lloyd, sarò padre! Guarda il film, bro. 1991. Ho avuto una figlia, l'ho data in adozione. Andiamo a cercarla noi. Ti eccita mia figlia? Che? E' vero o no? Che? E' vero o no? De celebrato! Apprezzerà molto che lei si sia disturbato a ritrovarla. Chiamiamola. Sta squillando. Chiunque lei sia, c'è una cosa molto importante in corso. Sono il tuo papà! Che? Ehi ragazzi, so che non sarebbe il momento, ma devo rispondere. È mio padre dall'aldilà. Mi ha messo in attesa! Ma è chi? Sì, nonnina? Ho io i diamanti. Ma è che ti sente? Sono sotto di me. Ce l'hai nella fagionella? Ecco, sono proprio lì tra le frattaglie. Non ci sono diamanti qui! E tu non sei mio nipote, davvero! Harry, mi ha preso! Mi ha risucchiato la mano! Ora hai una storia da raccontare ai tuoi nipotini. Mi ha risucchiato la mano!